Come tutti i reparti dell'ospedale di Termoli, anche quello di ginecologia ed ostetricia diretto dal dottor Bernardino Molinari, negli ultimi mesi causa Covid ha subito una riorganizzazione per accogliere in sicurezza non solo le donne che devono partorire ma anche quelle che si devono sottoporre a un intervento. Abbiamo organizzato dei percorsi dedicati per far sì che non seguissero strade diverse da quelle segnate dalla nostra direzione con percorsi proprio visivi apponendo un nastro rosa nei vari corridoi da percorrere. Abbiamo fatto in modo che non facessero file lì dove potevano crearsi all'esterno dell'ospedale sotto la tenda facendo un triage telefonico pre attività ambulatoriale. Questi sono alcuni esempi di ciò che abbiamo messo in pratica perché poi con una grande volontà impegno da parte di tutti delle ostetriche, dei medici siamo riusciti anche a fare dei corsi di accompagnamento alla nascita a distanza. Per spalmare l'afflusso delle utenti è stato riorganizzato l'orario delle attività di ambulatorio che si svolgono anche in due pomeriggi a settimana mentre per i ricoveri non programmati è stata allestita nel reparto un'area grigia dove le pazienti rimangono in attesa di effettuare il tampone ricevendo comunque assistenza. Dopo il periodo iniziale di questa pandemia durante il quale ai papà non era più permesso di entrare in sala parto, ora finalmente già da diversi mesi questo divieto è stato superato consentendo ai papà di veder nascere i loro bimbi che poi potranno reincontrare solo dopo qualche giorno con le dimissioni. Abbiamo poi ottenuto la possibilità nel massimo della garanzia e del rispetto di quelli che sono i dispositivi da utilizzare per evitare contagi, abbiamo ottenuto la presenza dei papà perché ovviamente essendo un'esperienza unica e ripetibile quella della nascita del figlio ci sembrava giusto che papà potesse condividerla con sua moglie. Finalmente anche il progetto della nuova sala parto che verrà spostata sullo stesso piano del nido sta prendendo forma. Noi siamo tutti convinti che anche un rilancio se vogliamo del punto nascita di Termoli può passare attraverso questo cambio strutturale, questo cambiamento strutturale. In realtà è una cosa necessaria, indispensabile perché comporterebbe anche un minore impegno di personale che ora è distribuito su due piani. Abbiamo avuto garanzie da parte del direttore generale, so che sono nei programmi dell'azienda questi adempimenti che possano portare poi ad avere una nuova sala parto dove poter effettuare travaglio parto in un'unica stanza dove la vicinanza del nido e della degenza possa garantire un'assistenza migliore.